Sapevano ancora prima che la vicenda deflagrasse di essere indagati per voto di scambio. Lavoro in cambio di voti per elezioni regionali dell'ottobre dell'anno scorso. Tanto che tutti e due, Raffaele e Totti Lombardo, padre e figlio, tempo fa vennero convocati in procura per essere sentiti. L'interrogatorio però frutta poco, pochissimo, anzi pressoché nulla. Tutti e due si evvalsero dalla facoltà di non rispondere. Oggi il comunicato ufficiale della procura, i Lombardo, assieme ad altre tre persone, Giuseppe Giuffrida, Ernesto Privitere e Angelo Marino, sono finiti in un'inchiesta per voto di scambio. Tutti e tre avrebbero promesso un'abbondante raccolta di voti in cambio di posti di lavoro per elezioni regionali, nel corso del quale il figlio dell'ex governatore della Sicilia ha ottenuto oltre 6.000 preferenze. Per uno dei tre, per Giuseppe Giuffrida, la promessa sarebbe stata mantenuta, tanto che venne assunto il 18 marzo scorso presso la IPSRL, un'associazione temporanea di impresa specializzata nella raccolta dei rifiuti. Per gli altri due la promessa invece è caduta nel vuoto. L'inchiesta della squadra mobile alla questura di Catania, coordinata dal sostituto procuratore Rocco Liguori, è nata dalle dichiarazioni del pentito Gaetano D'Aquino, ex soldato della Cosca Cappello, che avrebbe riferito in generale in che maniera avveniva a Catania il voto di scambio. Intercettando alcuni personaggi noti alle croniche giudiziarie, la procura sarebbe arrivata al voto di scambio dei Lombardo. Della vicenda parla lo storico difensore di Raffaele Lombardo, l'avvocato Guido Zicconi. È un punto di partenza, bisognerà vedere quali elementi ci sono, che cosa dichiarerà l'imputato, quali prove si possono ipotizzare. L'inchiesta sul voto di scambio è conclusa. Adesso i Lombardo dovranno a disposizione 20 giorni da ieri per leggere le carte, produrre memorie difensive. A quel punto la procura dovrà decidere se chiedere il rinvio a giudizio. Per tutti i Lombardo sarebbe una tegola in testa vista la sua giovane età e i pochi mesi di esperienza all'Arsa.